A tre giorni dal delicato match contro la Vitor Besa al partiene Lombardi, mister Massimo Rastelli resta con il fiato sospeso, perché anche oggi Fabio Tito non ha preso parte alla seduta di allenamento e il suo posto domenica non è sicuro sull'outmancino di difesa. Il calciatore stabiese accusa ancora un forte dolore alla costola dopo l'infortunio fortuito rimediato in allenamento martedì, ma il tecnico di Pompei fino all'ultimo minuto spera di recuperarlo per il match contro i laziali. Il resto del gruppo squadra sul campo dopo una prima parte di riscaldamento ha lavorato su esercitazioni tattiche specifiche e sul possesso palla. Buone notizie da Antonio Matera e da Marcello Trotta, che sono ritornati ad allenarsi in gruppo dopo dei piccoli acciacchi muscolari, mentre Davide Mazzocco si è allenato parzialmente in gruppo per gestire i carichi di lavoro. Gli unici assenti con il resto del gruppo squadra a me la settimana sono Ramzi Aya e Jacopo Dalloglio, che hanno continuato il programma di terapia per smaltire i loro rispettivi problemi fisici.